Anche le nostre donne qui indietro, non vi ho visto le donne, non vi ho visto la somma più aperta. No, non ci restaremmo sempre. Ci avevo lasciato lo spazio al destra. Ci ha fatto a visitare le donne, le donne, le donne, le donne, le donne. Questo sì ci ha fatto costruire le case, ci ha dato da vivere per un po' di tempo, anche se ci lavoravamo tutti i giorni per tante, tante ore. Adesso siamo con un territorio completamente distrutto. Il terreno non è più recuperabile, è inquinato e non c'è verso di tornare indietro perché le banche hanno reso i contadini schiavi. I produttori di sementi hanno reso i contadini dei clienti a vita, non possono più produrre i loro semi. Non c'è verso di tornare indietro. Tutto questo doveva darci una libertà, una indipendenza, un'autonomia. Questa non è libertà, questo è un modo per ammalarsi e per vivere male. C'è stata l'epoca in cui c'erano i re e i sudditi. C'erano i re e quelli sotto che lavoravano. C'è stata l'epoca in cui c'era l'imperatore. C'è stata l'epoca in cui c'erano i feudatari. Tutti abbiamo tutte le possibilità, potremmo fare tutto quello che ci fa. Forse, perché questa è l'epoca invece, secondo me, negli eventi nazionali è difficile difendersi. Perché a volte una non si rende neanche conto, non sa dove sono, si nascondono. E per loro è importante soltanto una cosa, che noi ci crediamo liberi e che compriamo. Solo quello gli interessa. Allora, dubbiamo sempre e comunque dove entrare, dove arrivare a noi. E anche quando ci sembra di fare una scelta di libertà, ecco che ci hanno un ritardo. Per esempio, io scelgo di non mangiare le uova delle galline di allevamento che sono allevate sulle gambe, sono allevate in aria in modo mostruoso. E la gallina che ha fatto quest'uovo è stata allevata per bene, no? Non sono d'accordo anch'io, sono d'accordo. Come si fa? Però, che cosa succede? Perché se lei va a vedere, quelle galline sono allevate, chiuse, sono tantissimo, stanno sulla loro cacca tutta la vita e quando devono essere macellate arriva come un bulldoze che lei prende, le trascina tutte le vie e non le tratta come esseri di vera. Qual è il rimedio? Il rimedio ce lo doveva trovare ognuno, ma c'è di farlo fare steak, mi spiega, che cosa si fa? E non mi asso, inizia? Non mangiare le uova? Può essere, io dico soltanto quello che vedono i miei occhi, soltanto questo. Allora, noi avete quelli sbarghi, che possiamo fare un sacco di cose. No, io l'ho risposto, non vi voglio aiuto, però vado a domandare, no, mi fate parlare. vediamo chi sa che cosa era questa moneta quando diceva che è scritto Repubblica Italiana Repubblica Italiana, volevo dire che questo è un denaro, così la gente poteva spendere di più sapete cosa hanno fatto le banche? sapete cosa hanno fatto le banche? le banche sono qui le banche che fanno è un clic, cliccano e il denaro esce così perché effettivamente loro non possono fare i banche non c'è più scritto Repubblica Italiana, c'è scritto banca europea banca, i soldi ormai sono delle banche e per questo c'è anche la crisi perché le banche non possono fare i soldi e perché così ci tengono i nataliati? perché noi dobbiamo pagare i soldi, noi per avere i soldi dobbiamo pagarli lo Stato per avere un finanziamento oggi deve chiedere un prestito alle banche prima non si chiedeva un prestito alle banche, lo Stato faceva i soldi e con questi soldi poteva finanziare i progetti signori e signori non è finito, anzi stiamo per iniziare perché vorremmo partecipare allora vi chiedo di fare un piccolo esercizio ok? vediamo a presto Giacomo! Grazie a tutti!